Il Padiglione Vino è parte del Padiglione Italia e anche a Padiglione Vino Ferrari ha una presenza importante, nel senso che siamo prima di tutto nel Trento Doc, il Trentino ha un suo spazio all'interno del Padiglione Vino, uno spazio che è dedicato ai vini fermi e poi anche alle bollicine trentine e al Trento Doc. Sempre all'interno di Expo questo percorso Ferrari non finisce perché anche chi va al Future Food District può trovare il Ferrari Trento Doc, lo trova addirittura nel mese di maggio in uno spazio dedicato, in questo supermercato del futuro che è stato organizzato dalla Copp. E andiamo avanti, anche in Tittagolose ha colto Expo come una sfida, ha una propria presenza, ha un proprio padiglione, uno spazio dedicato in cui si alternano alcuni tra i migliori e più grandi chef italiani e alcuni stranieri. Ebbene noi come Ferrari siamo presenti insieme a altri vini dell'Italia del Vino, che è un consorzio di produttori e di marchi e abbiamo l'onore di essere quindi accostati a dei piatti di chef straordinari. Andando avanti, Slow Food, anche all'interno del Padiglione Slow Food il nostro gruppo è presente, non solo come Ferrari ma anche con i vini da tenute Lunelli, che sono vini che vengono tutti da tenute certificate biologiche.